L'estate della città di Lecco sarà costellata di serate divertenti e sicure da vivere nei cinema drive-in, da 23 giugno al 25 agosto. Ecco le date da non perdere. Le rassegne 2021 sotto alle stelle a Lecco. Nella città di Lecco arriva il cinema all'aperto e il drive-in, ed entrambe le iniziative sono patrocinate dal comune e da Lecchese. Turismo manifestazioni per promuovere il divertimento in piena sicurezza, nonostante le limitazioni dovute anche quest'anno alla pandemia da Covid-19. La prima delle due rassegne estive dedicate al cinema in città, è Cinema in piazza, che si tiene in piazza Garibaldi con un ricco programma di cortometraggi in proiezione tutti i mercoledì di giugno, luglio e agosto, mercoledì 18 agosto escluso. Il cinema all'aperto per le famiglie vedrà l'inizio delle proiezioni alle ore 21, con un programma molto ricco e adatto davvero a tutti i gusti e per tutta la famiglia. Ma ora passiamo ai drive-in dell'estate 2021 nella città di Lecco. Cinema drive-in a Lecco, sul piazzale per Erna la grande novità dell'estate 2021 a Lecco è la possibilità di guardare i film direttamente dalla propria vettura, con la riscoperta formula classica del drive-in, uno spazio fresco e fruibile in piena sicurezza che offre. Ben 100 posti auto, la scelta dei titoli non è casuale e promuove la vita negli spazi all'aperto, il contatto con la natura e il legame col territorio. Le proiezioni si terranno in località Versasio, al piazzale della Funivia per i piani d'Erna, inizieranno alle ore 21 e 15 e saranno. Nelle seguenti date, Venerdì 2 luglio, Now 2020, Venerdì 9 luglio, L'Uomo Delfino 2017, Venerdì 16 luglio, Citizen Jane, Battle for the City 2016, Venerdì 23 luglio, Nomad, In Cammino con Bruce Chatwin 2019, Domenica 25 luglio, The Rider, Il Sogno di un Cowboy 2017. Il prezzo? L'ingresso costa 2 euro e 50 centesimi ma il parcheggio è gratis. Per ulteriori info è possibile contattare Lecchese Turismo Manifestazioni telefonando al 329 6.150.422.